La pistola ritrovata nell'abitazione di Barbara Pasetti aveva 5 colpi nel tamburo e altre 19 cartucce dello stesso calibro 7,65 sono state trovate in una busta di plastica trasparente. E' quanto reso noto la procura di Pavia riguardo alla perquisizione avvenuta a Calignano il primo febbraio scorso, la seconda a casa della fisioterapista accusata di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Luigi Criscuolo. La procura ha diffuso un comunicato stampa nella tarda serata di lunedì per fare chiarezza su diverse indiscrezioni emerse negli ultimi giorni e per smentirne altre. Stando al comunicato la pistola non presenta affatto tracce di abrasione sul numero di matricola e non è stata trovata in giardino, bensì all'interno di un vano tecnico della centralina d'allarme, al primo piano della casa. La procura ha poi smentito il ritrovamento di una cassetta degli attrezzi di proprietà di Luigi Criscuolo. Sono già in corso accertamenti tecnici non ripetibili di natura biologica, genetica, balistica e merceologica sui reperti rinvenuti e sequestrati nel corso delle perquisizioni, prosegue la nota per i quali è stato delegato il gabinetto regionale di polizia scientifica per la Lombardia. Si conosceranno i primi esiti entro pochi giorni. La procura ha reso noto che sono anche in corso accertamenti tecnici sul cellulare di Barbara Pasetti e sul sistema di allarme e di videosorveglianza della tenuta di Calignano. L'attività di indagine conclude il comunicato diffuso nelle scorse ore. Sta proseguendo sia per individuare gli autori materiali dell'omicidio che per confermare le accuse nei confronti di Barbara Pasetti.